La scala è anche molto positiva proprio per allungare. Portate i piedi indietro, scendiamo giù con i talloni, poi sollevo. Uno e scendo. Due. Senta l'allungamento, prima di sollevare di nuovo. Quattro. Cinque. Sei. Questo è eccellente anche per le caviglie. Oltre le polpacce, sette. Otto e relax. Non esagerare con questi esercizi perché potrebbe mandare in crampo il polpaccio e stancare i piedi. Ti dà un recupero. Ritorni sopra e ricordate di sentire prima l'allungamento e poi il lavoro. Ci siamo? Scendo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. And stop. Prossimo esercizio sarà proprio una bel sollevamento per l'interno coscia. Ok? Su e giù. Quando usiamo la scala andiamo veramente a caricare tanto il nostro muscoli perché stiamo sollevando il peso corporeo. e facciamo uno, due, tre, quattro, ginocchio di vari quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, l'altra parte. Sette, quindici, uno, scendo, due, guarda il ginocchio verso il punto del piede, dito medio del piede, sette, otto, nove, dieci, cinque, quattro, tre, due, e uno. Relax. Movimento eccellente quando tu c'è poco tempo per allenarti e inalzare il battito cardiaco e la corsa sulla scala. Ok. Più veloce possibile. Controlla dove metti i piedi. Cambio i piedi. Cambio i piedi. and stop un altro esercizio meraviglioso solo per i tricipiti utilizzando la nostra scala scendiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uno due ricupera poi ripeteremo tre due uno dodici andiamo con le braccia uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uno e due perfetto la scala è anche molto è molto positivo proprio per allungare portate i piedi indietro scendiamo giù con i talloni poi sollevo uno e scendo due sento l'allungamento prima di sollevare di nuovo quattro quattro cinque sei questo è eccellente anche per la caviglia oltre le polpacce sette otto and relax non esagerare con questi esercizi perché potrebbe mandare in crampo il polpaccio e stancare i piedi ti dà un recupero ritorni sopra e ricordare di sentire prima l'allungamento e poi il lavoro ci siamo? scendo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci and stop il prossimo esercizio sarà proprio una bel sollevamento per l'interno coscia ok? su e giù quando usiamo la scala andiamo veramente a caricare tanto il nostro muscoli perché stiamo sollevando il peso corporeo e facciamo uno due tre quattro ginocchio di vari quattro cinque sei sette otto nove dieci ancora cinque cinque quattro tre due l'altra parte quindici uno scendo due guarda il ginocchio verso il punto delle diete del piede dito medio del piede sette otto nove dieci cinque quattro tre due e una relax movimento eccellente quando tu c'è poco tempo per allenarti e inalzare il battito cardiaco e la corsa sulla scala ok più veloce possibile controlla dove metti i piedi controlla dove metti i piedi un altro esercizio meraviglioso un altro esercizio meraviglioso solo per i tricipiti utilizzando la nostra scala scendiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uno due ricupera poi ripeteremo tre due uno dodici andiamo con le braccia uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uno e due perfetto no no